Qualche giorno è uscito, eccolo qua, io ringrazio moltissimo Piero, grazie a te Fabio Mocca lupo perdito, mi promettete una cosa, che prima o poi parlerete delle scie chimiche Parleremo delle scie chimiche, poi mi dici adesso durante la pubblicità di cui ti riferisci E, 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 Fabio, mi promettete una cosa, che prima o poi parlerete delle scie chimiche Parleremo delle scie chimiche, poi mi dici adesso durante la pubblicità di cui ti riferisci Poi mi dici adesso durante la pubblicità di cui ti riferisci Poi mi dici adesso durante la pubblicità di cui ti riferisci È uscito, è quello tuo e lo ringrazio moltissimo Piero, grazie dalle stringereей Fذه Faire. Dovrei promettere una cosa, che prima o poi parlarete delle scie chimiche? Parleremo delle scie chimiche. Poi mi Passover, adesso i volantini abuchtani, a quali ti referisci? E... Poi miоловco perdere! Dovrei promettere una cosa, che prima o poi parlarete delle scie chimiche? Parleremo delle scie chimiche. Poi mi Americano, adesso i volantini abuchtani che si... Poi mi Latino, nessun volantini abuso salige, a quali ti referisci? e noi ci vediamo fra due minuti che prima o poi parleremo delle scie archibriche che prima o poi parleremo delle scie archibriche qualche giorno è uscito eccolo qua io ringrazio moltissimo Mocca lupo per duro Dimmi Una cosa di prima o poi parlerete delle scie chimiche E poi mi dissi Adesso iÅcolanti abusitani che si A quali ti referisci? Mocca lupo per duro Dimmi Che prima o poi parlerete delle scie chimiche Parheremo delle scie chimiche Adesso iÅcolanti abusitani che si A quali ti referisci? Adesso iÅcolanti abusitani che si è noi ci vediamo fra 2 minuti che prima o poi parlerete delle scie chimiche parlerè qualche giorno è uscito eccolo qua io ringrazio moltissimo pol거나 che prima o poi parlarete delle scie chimiche poi mi dissi da me che prima o poi parlarete delle scie chimiche poi mi dissi da me a quali ti referisci e... Sì... e noi ci vediamo fra due minuti per farlo paese delle scie chimiche e noi ci vediamo fra due minuti che prima o poi parlarete delle scie chimiche e che prima o poi parlarete delle scie chimiche una qualche giorno è uscito eccolo qua io ringrazio moltissimo Piero Grazie a te Fabio